Ciao a tutti, io sono Nicole. Ciao, io sono Costanza. Veniamo dall'Italia, pizza pasta maccheroni. Niente, noi siamo qui a Rio de Janeiro all'hostel del Misti e l'abbiamo conosciuto in verità per caso, per puro caso, un po' come tutto il viaggio che abbiamo fatto in Brasile, un po' improvvisato. Avevamo la programmazione, ma è stato tutto cambiato. Se venite a Rio de Janeiro dovete per forza venire al Misti. Sei l'ostello più bello del mondo. Il miglior ostello che io abbia mai visto in tutta la mia vita. Non solo per i ragazzi che sono meravigliosi, ma anche perché qui potete trovare davvero degli amici, non solo ospiti come noi o come voi, ipoteticamente, ma anche loro sono delle persone con cui potreste avere dei legami, credo molto forti, anche nel futuro, insomma. Non è come stare in un ostello, hai incontri delle persone fantastiche che se tu stessi in un hotel o in qualsiasi altra location non incontreresti. E poi la gente è super solare. Pronti a farti vivere proprio un'esperienza. Lo staff è super, lo staff è meraviglioso. Un big up per lo staff, un big up per lo staff davvero. Voi dovete assolutamente mangiare i biscotti Globo a Rio de Janeiro, assolutamente. Questo per farvi capire quanto è stata significativa questa esperienza per noi. Il nooo.